Al via il cantiere di via Mazzini, traffico a singhiozzo per un anno, partono i lavori da 2 milioni per il restyling della via centrale di Diareggio, più a misura di pedoni e ciclisti, viabilità rivoluzionata fino alla fine della prossima estate. Spiaggia più sicura ma meno libera, prime settimane di attività per la nuova spiaggia attrezzata lungo il molo, allontanati spacciatori malintenzionati ma c'è chi rivuole l'arenile completamente accessibile. Bloccati in porto con l'incubo dei naufragi, lo sfogo dell'equipaggio della Open Arms, la ONG in fermo amministrativo al porto di Marina di Carrara, abbiamo costi di manutenzione, soprattutto però la paura di altri morti in mare. Calcio, il derby versiliese va in bianconero in promozione, il Diareggio batte il Pietrasanta nell'andata del primo turno di Coppa Italia, in eccellenza finisce 0-0 fra Camaiore e Massese. Ben ritrovati con l'informazione del TG Noi, le notizie dalla Versilia e partiamo da Viareggio, dunque dal maxicantiere in allestimento proprio in questi giorni nella centralissima via Mazzini, cantiere che rivoluzionerà il traffico a blocchi ma per oltre un anno. Vediamo insieme dunque e capiamo come cambierà quella che è una delle arterie principali della città. Almeno un anno di lavoro per un maxi investimento da 2 milioni di euro. Parte in queste ore il cantiere di Via Mazzini, la strada centrale di Viareggio che collega la stazione al mare cambierà volto e anche funzionalità. È previsto il rifacimento di tutti i sottoservizi, dell'illuminazione pubblica, dei marciapiedi che saranno più ampi a favore dei piedoni. Sarà realizzata una pista ciclabile con alberature e un arredo urbano ispirato a Moses Levy che visse proprio in quella strada. Sarà una nuova strada, come abbiamo sempre detto, un nuovo corso centrale per la nostra città, un'area che collegherà il mare alla stazione passando per il nuovo mercato e che costituirà un po' la dorsale, quello che da sempre è sulla pianta della città di Via Reggio e la Via Mazzini. C'è una grande dorsale della città che diventi anche un posto dove si va volentieri a passeggiare, a camminare, a fare acquisti. Il cantiere in allestimento entrerà nel vivo venerdì con i primi scavi. 300 giorni lavorativi previsti, nei quali la viabilità sarà il tema principale. Una convivenza che non si annuncia facile, data la molla di traffico che interessa Via Mazzini, specie in questi primi mesi quando il cantiere interesserà l'area delle scuole elementari. L'obiettivo del Comune è arrivare all'inizio della prossima estate con un completamento di almeno l'80%. Abbiamo deciso di partire subito dopo l'estate proprio per garantire il minor disagio possibile. È chiaro che un anno di lavori sono un periodo importante, cercheremo con la Polizia Municipale di gestire al meglio le possibili criticità. Ci sarà una chiusura a traffico per lotti, i lotti saranno fatti a isolati chiaramente, i primi due saranno interessati dal primo lotto di interventi e poi procederemo partendo appunto da Piazza Dante e andando verso il mare, in modo tale da poter creare il minor disagio possibile e da garantire sempre una fruibilità della strada da parte dei residenti e dei cittadini. Restiamo a Viareggio, 16 pini abbattuti nella pineta di Levante e gli ambientalisti chiedono un piano di monitoraggio e di prevenzione dal parassita. Sentiamo. In pochi giorni ha cambiato volto questo scorcio della pineta di Levante a Viareggio. Siamo sul viare dei Tigli, a ridosso dell'ex collegio Colombo, futura sede dell'istituto alberghiero. 16 pini domestici sono stati abbattuti dal comune. Le alberature erano state attaccate dal blastofago, un coleotero distruttore del pino. La regione toscana in questi casi raccomanda il rapido abbattimento delle piante ammalate per evitare il proliferare dell'insetto e garantire l'incolumità pubblica. I lavori di questi giorni, affidati d'urgenza dal comune alla cooperativa La Versiliana, non sono certo passati inosservati. Di fatto è sparito un pezzo di pineta in Darsena, fruita dai residenti come parco cittadino. Ho visto all'inizio che è incominciato uno a diventare più giallo, diciamo così, e poi con il tempo, ma poco tempo, ho visto che quegli vicini hanno subito preso, infatti, ora non so quanti ne hanno tagliati, ma erano già diversi, che erano proprio gialli secchi. In maniera molto veloce, in maniera molto veloce. Ora io esattamente, ma nel giro di un paio d'anni ho visto un cambiamento, forse anche meno. E ci sono timori per i pini sulla sua struttura? Ma io spero di no, spero di no e spero che non abbia attaccato anche quest'altri, perché insomma noi comunque siamo in pineta, la bellezza è quella lì, insomma. Resta da capire se quelli appena eseguiti sono gli unici abbattimenti o se ne seguiranno altri, con un ulteriore impatto sulla zona. Dopo la strage di Pini, causata dal mazzo Coccus in questi anni nella macchia lucchese, a chiedere un monitoraggio e un piano di prevenzione da questo nuovo parassita, è il Partito Comunista Provinciale, che ha scritto al Sindaco di Viareggio, alla Regione Toscana e al Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli, una strategia, chiede il PC, che non porti necessariamente al taglio delle piante come unica misura percorribile. Andiamo lungo il molo, da spiaggia libera a spiaggia libera attrezzata, decisione ricorderete presa dall'amministrazione per allontanare malintenzionati, spacciatori, fenomeni di violenza in quel tratto di arenile. Siamo andati a vedere dopo un paio di settimane circa del nuovo servizio. Dallo scorso 22 agosto e fino alla fine del mese di settembre, sarà la direzione del Bagno Flora, uno dei più antichi d'Italia, vera istituzione, a preoccuparsi di restituire un po' di tranquillità sulla striscia di spiaggia libera del lungomolo, ostaggio di furti, liti e spaccio. La giunta del Ghingaro in agosto ha votato la variazione di destinazione d'uso ed ha affidato allo stabilimento balneare Flora, a titolo gratuito e sperimentale, la gestione dell'arenile. Per il momento è migliorata, però come puoi vedere c'è sempre gente che si mette sugli scogli, se non altro il problema della delinquenza è migliorato, diciamo. Abbastanza meglio va. Più che altro pretendono di avere la spiaggia libera, che il posto se vanno in comune, se lo fanno assegnare, ce l'hanno, però pretendono di venire che sia spiaggia libera. Io direi che bisogna che facciano qualcosa anche per il futuro, magari fatto così potrebbe andar bene, va rivisto un attimino probabilmente, però penso che sia una soluzione migliore rispetto a quello che era prima. E nonostante siamo a settembre, con queste belle giornate c'è ancora molta affluenza sul mare? Abbastanza, via. Non c'è il pienone, però abbastanza. Si avvicina rapidamente il nuovo anno scolastico, i lavori in molte strutture scolastiche del territorio, andiamo così a Carrara, sopra il luogo del presidente della provincia di Massacarrara, Gianni Lorenzetti, della sindaca Serena Arrighi, al cantiere dell'Istituto Tacca, per seguire l'evoluzione. Iniziati i lunedì i lavori di sostituzione edilizia attraverso la demolizione e ricostruzione dell'Istituto per il Marmo. Dal crono programma è previsto che la fase di demolizione finisca entro il 15 settembre per permettere la riapertura della strada attualmente chiusa al traffico. Il termine dei lavori è fissato per febbraio 2025. L'intervento è finanziato dal PNRR per 3.750.000 euro con lavori che sono stati appaltati dalla provincia. Ed è ancora bloccata in fermo amministrativo al porto di Marina di Carrara la Open Arms, la nave della ONG che ha sbarcato. Migranti ricorderete pochi giorni fa, in realtà ne sono già passati ormai molti, da quel 22 di agosto e c'è lo sfogo del comandante e dell'equipaggio per questa situazione difficile che stanno attraversando. L'incontro pubblico è stato a Viareggio il lunedì sera. Ascoltiamo. Questo periodo di fermo non ce l'aspettavamo, tant'è che eravamo convinti di arrivare al porto di Carrara, far scendere le persone e magari rimanere tre giorni. Stiamo cercando di utilizzare il tempo al meglio per prepararci per ripartire. Sono bloccati in porto a Marina di Carrara dal 22 agosto, dallo sbarco dei 196 migranti, di cui 14 minori non accompagnati, sanzionati il giorno dopo per aver soccorso in mare più naufraghi di quanto autorizzato in violazione al decreto cutro. In questi 20 giorni di fermo amministrativo, gli attivisti della Open Arms, pagata la multa da 10.000 euro, stanno raccontando la loro vicenda in vari incontri, come quello di lunedì sera al caffè galliano in passeggiata, organizzato dal Partito Democratico di Viareggio. Una situazione difficile e paradossale, quella raccontata dalla ONG, guidata dal comandante della nave, l'argentino Riccardo Sandoval, e dal suo equipaggio. Sicuramente stare fermi così tanto tempo comporta un costo, perché comunque la nave ha bisogno di essere messa in modo, di essere in movimento, quindi ci sono dei costi legati al personale. Il decreto è molto fermo, la legge è molto chiara, è molto ferma, e quindi noi stiamo cercando di capire anche come muoverci. Sicuramente in questi 20 giorni al porto di Carrara stiamo preparando la nave per partire con una nuova missione. Il PD ha presentato un'interrogazione parlamentare sul fermo della Open Arms. Crediamo che oggi non debba essere creato salvare il vita umane, e noi faremo tutto il possibile nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, per avanzare, non solo intanto avere una risposta dal governo che non abbiamo ancora avuto, ma una proposta politica che noi faremo anche nelle prossime settimane sul tema specifico, perché non possiamo continuare con un sistema emergenziale che non serve a niente. Viviamo con una costante preoccupazione che è quella di dover sentire, purtroppo magari di dover ricevere una notizia relativa a un naufragio. Ecco, questo ci metterebbe in uno stato d'animo molto diverso da quello che stiamo vivendo attualmente. Quindi noi ogni giorno viviamo sperando di non ricevere una notizia di questo tempo. Cambiamo argomento. La pulizia dei corsi d'acqua, organizzata sabato scorso dal Consorzio di Bonifica, ha visto la partecipazione più alta di sempre, con 40 associazioni di volontariato impegnate a togliere plastica dai fiumi in Lunigiana, Massa, Versilia, Vecchiano, Lucchesi e Piana. La lotta alle plastiche, ingaggiata dal Consorzio di Bonifica, interessa proprio tutti coloro che hanno deciso di adottare un corso d'acqua e di prendersene cura attraverso il monitoraggio e soprattutto la rimozione dei rifiuti. Abbiamo assistito a un evento storico, spiega il Presidente del Consorzio Ridolfi, sia per numero di partecipanti, in tutto oltre 300 persone, che per numero di punti di raccolta diffusi in quasi tutto il territorio. In Versilia erano 14 le associazioni coinvolte, in tre punti differenti delle sponde del lago di Massaciuccoli. Tutto il materiale raccolto è stato conferito in discarica. Spostiamoci adesso in Lucchesia, celebrazioni per l'anniversario della liberazione dal nazifascismo ed è la storia di Lelia Farnocchia, una camaiorese trucidata dai nazifascisti, ad essere al centro delle celebrazioni. 5 settembre 1944, i soldati tedeschi vengono fatti prigionieri mentre gli americani entrano in città, accolti dalla popolazione festante per la liberazione dall'esercito nazista. Sono passati 79 anni e Lucca ricorda quel giorno commemorando i martiri e gli eroi che hanno permesso con il loro sacrificio di raggiungere la libertà. Il comune con un'azione concreta ha voluto onorare la memoria di una giovane donna uccisa dalla barbarie nazifascista, Leila Farnocchia. A lei con una cerimonia alla presenza delle autorità è stata intitolata una strada nella frazione di Nozzano. Oggi nel 79esimo anniversario della liberazione di Lucca dal nazifascismo, fra le varie attività ci è sembrato simbolicamente importante mettere l'intitolazione di una strada Leila Farnocchia, un percorso che era cominciato amministrativamente con la scorsa amministrazione e che oggi portiamo a compimento. Leila era nata a Camaiore nel 1903 e viveva con la madre vedova di guerra, conducendo una vita schiva e prodigandosi ad aiutare nei compiti a casa diversi ragazzi della sua comunità. Fu arrestata senza alcun motivo da un soldato nazista e portata nella prigione degli orrori allestita nella scuola di Nozzano fu torturata per poi essere fucilata il 25 agosto del 44. La tragedia di Leila fa parte della guerra, fa parte di tutte le tragedie che la guerra si è portata dietro. È una vicenda triste ed è quello che porta alla guerra. Ecco cos'è la guerra. La guerra stravolge tutto, stravolge i ruoli sociali, stravolge i rapporti, azzera la quotidianità. Questo è quello che è toccato a Leila e a tanti altri come lei. Quindi fu una delle tante rappresaglie che tristemente dobbiamo ricordare e raccontare anche alle nuove generazioni. Noi torniamo a Viareggio, il progetto di un nuovo oratorio, un'aperta campagna portato avanti dal parroco Don Luigi Pellegrini. Sentiamo. Realizzare un luogo di fede e aggregazione nella tranquilla campagna tra Viareggio e Torre del Lago in Via della Fontanella. Il sogno di Don Luigi Pellegrini, parroco di Santa Rita nel quartiere Campo d'Aviazione, è quello di costruire un oratorio che possa servire come luogo di incontro e spiritualità per la comunità locale. Don Luigi, con la sua energia e dedizione, ha messo in moto questo progetto che va ben oltre la costruzione di un edificio. L'oratorio sarà un punto di riferimento per le famiglie della zona, un luogo in cui ritrovarsi per momenti di preghiera, di condivisione e di crescita spirituale. Tuttavia, realizzare questo sogno non è un compito facile e il vulcanico uomo di fede sa che non può farcela da solo. È per questo che ha lanciato un appello alla comunità locale, chiedendo il contributo di tutti, non solo dal punto di vista economico, ma anche attraverso la partecipazione attiva. Il progetto prevede la costruzione di un edificio moderno e accogliente, con spazi per preghiera, catechesi, la biblioteca e un'area per attività ricreative e sociali. Sarà un centro aperto a tutte le età, dove giovani e anziani potranno trovare un luogo di sostegno e crescita. Per finanziare questa impresa, Don Luigi sta cercando il supporto di imprenditori locali, aziende e singoli cittadini. Ma, come abbiamo detto, non è solo una questione di denaro. Il prete crede che la comunità debba essere coinvolta attivamente nella realizzazione di questo progetto. Intervistato al telefono, Don Luigi ha dichiarato che questo oratorio non è solo una struttura, ma un simbolo di unità e fede per la nostra comunità. Veniamo adesso al calcio, la Coppa Italia, con i risultati sia in eccellenza che in promozione. Sentiamo Roy Lepore. Per la Coppa Italia di eccellenza, domenica si sono giocate le gare di andata. Il camaiore di Luca Polzella ha pareggiato 0-0 in casa contro la Massese, pur avendo avuto alcune opportunità per sbloccare il risultato. Due reti annullate e Blu Amoranto, la prima per fuorigioco ad Amico, la seconda Geraci per un'azione viziata da un fallo in attacco. Nel ritorno c'è in palio il passaggio del turno, pareggio 1-1 tra Pro Livorno e River Pieve. In promozione, il viareggio matricola del campionato ha vinto in pieno recupero in trasferta contro il Pietrasanta 1-0, quando sembrava che il pareggio fosse il risultato acquisito. È arrivata però la rete di Gabriele Cicciarini, che in Mischia è stato più veloce di tutti a battere Mariani, che era subentrato nella ripresa a Samuele Chicchiarelli, che aveva avuto l'opportunità per sbloccare il risultato. Il Pietrasanta ha colpito un palo con Pinelli. Per la gara di ritorno prevista domenica 10, il viareggio ha chiesto lo spostamento alla federazione, avendo quattro giocatori convocati con la nazionale di beach soccer, Carpita, Bertacca, Fazzini e Pugliese. In attesa di margini di miglioramento, sia i bianconeri che i bianco celesti hanno dimostrato di poter essere protagonisti in campionato. Ha preso il via intanto la campagna abbonamenti del viareggio al Marco Polo Sport Center. La società monterà una tribunetta in metallo per poter ospitare i tifosi. è terminata 0-0 tra Pieve, Fusciana e Castelnuovo. Tornando sulla Coppa Italia a promozione, la partita di ritorno del primo turno tra viareggio e Pietrasanta, quella della 10 settembre, è rinviata a data da destinarsi. Le ragioni riguardano entrambe le squadre, ovvero che vi sono giocatori convocati con la nazionale di beach soccer, tre per il viareggio e uno per il Pietrasanta. E mi fermo qua. Vi ringrazio dell'attenzione per essere stati con noi. Vi lascio ancora all'informazione del TG Noi e alla programmazione di Noi TV. Vi auguro una buona serata.